Pronto a lasciare la stazione di Berletta, il treno verde di Lega Ambiente che ha fatto sosta in città per tre giorni nell'ambito di una campagna contro l'inquinamento acustico e dello smog. Prima di salutare la città della disfida, la conferenza stampa di presentazione di dati rilevati dal monitoraggio scientifico compiuto in quei luoghi più frequentati del quotidiano e sui percorsi abitudinali necessari per gli spostamenti come parchi urbani, aree pedonali, strade trafficate, percorsi scasa, scuola. I risultati emersi sembrerebbero far tirare un sospiro di sogliero ai cittadini, almeno per quanto riguarda il tema più sentito, specie negli ultimi anni, come quello dell'inquinamento ambientale prodotto dalle fabbriche esistenti in città. Secondo i rilievi eseguiti dai tecnici di Lega Ambiente non sarebbero stati infatti riscontrate particolari criticità in tal senso. Diversa invece la questione dell'inquinamento acustico, risultato essere ancora un problema troppo sottovalutato, soprattutto nei pressi delle scuole dove si registrano i decibel più elevati. Quello che ha messo dal nostro monitoraggio è che c'è un inquinamento acustico molto molto elevato, abbiamo rilevato invece una situazione di inquinamento atmosferico nella norma grazie anche allo stop del forno della cementeria che ovviamente in questi giorni non ha contribuito allo smog sulla città di Barletta. L'inquinamento atmosferico nelle città italiane è prodotto da trasporti, industrie di scaldamento dovuto al consumo delle fonti fossili a partire dai derivati del petrolio. Questo vale anche per Barletta dove nella cementeria locale si brucia l'inquinante Petcoke. Dobbiamo liberare, dice il direttore generale di Lega Ambiente, tutti i territori dalla schiavitù delle fossili con un nuovo sistema energetico distribuito e democratico, fondato su efficienze rinnovabili. L'inquinamento industriale di questi stabilimenti è evidente. Il fatto che stiano all'interno del centro abitato ovviamente contribuisce a rendere piuttosto complicata la situazione e la convivenza con questi impianti e bisogna mettere in campo, a prescindere dal monitoraggio dei giorni scorsi, un'azione concreta per ridurre le emissioni di questi impianti e poi valutare se ci sono le condizioni anche per una futura delocalizzazione di questi impianti che qui come in altri posti ormai sono inglobati all'interno della cintura cittadina e questo ovviamente non garantisce né la qualità dell'aria né tantomeno la salute dei cittadini che vivono intorno a questi impianti. La situazione di Barletta in fatto di smog non è allarmante dunque ma il problema c'è e non deve essere sottovalutato. Non preoccuparsi più di tanto dipende perché insomma vivere vicino a uno stabilimento industriale non è positivo per nessuno. Ovviamente è una situazione diversa da Taranto, è una situazione diversa da altri luoghi complicati in giro per l'Italia ma bisogna risolvere a prescindere dal monitoraggio la convivenza di impianti industriali di questo tipo all'interno dell'area urbana. Dati incoraggianti dunque a quelli rilevati dall'Egambiente anche dovuti allo spegnimento dei forni della cementeria fermi dal 21 marzo. Il dubbio c'è però e rimane. L'auspicio infatti è che subito dopo la partenza del treno ambientalista la Buzzi Unicem non torni a pieno regime e la sua attività di inceneritore imbarba la buona dose di fiducia infusa dall'Egambiente all'intera cittadinanza.